Tra l'Iran e l'Iraq stanno nascendo nuove tendopoli, oltre a quelle che da anni ospitano i profughi della guerra siriana. Da ieri sera servono ripari per accogliere gli sfollati del violento terremoto che meno di 24 ore fa ha devastato questa zona. La situazione è particolarmente difficile a Darbandikan. La città è senza corrente e l'ospedale è stato seriamente danneggiato. Poco lontano da qui, nelle città di Arbat e Kalar, l'ONG italiana Emergency ha 5 cliniche che offrono cure gratuite nei campi profughi. I pazienti, siccome l'ospedale è stato danneggiato, sono stati riferiti o nell'ospedale di Suleimania, nell'emergency hospital di Suleimania o nell'emergency hospital di Kalar. Fondamentalmente i parenti e amici stanno ospitando le persone che sono rimaste senza casa. A Kanaken, versante iracheno del Kurdistan, il sisma ha danneggiato la locale moschea. Quest'uomo dice che grazie a Dio non ci sono state vittime. La parte superiore del minareto è venuta giù danneggiando il tetto della moschea. In Iran, la provincia più colpita è quella di Kermashan, dove negli ospedali ancora in funzione la gente fa la fila per donare il sangue. I feriti sono oltre 6.000. Ho sentito esplodere i vetri delle finestre, dice questo ragazzo, e poi è venuto giù tutto. Dopo la crisi diplomatica seguita al referendum di fine settembre sull'indipendenza, il terremoto ha riavvicinato la Turchia ai kurdi iracheni. Il governo di Ankara, oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, ha infatti inviato migliaia di tende coperte. Intanto, gli sfollati si preparano alla seconda notte fuori casa e, come spiega questo ragazzo, dormiranno tutti fuori, perché anche chi ha ancora una casa ha paura, teme per la propria vita. Quella che abbiamo vissuto ieri sera è stata un'esperienza terrificante.